Sono giunte dal Brasile le notizie drammatiche del massacro avvenuto nel carcere di Manaus, dove un violentissimo scontro tra bande e rivali ha causato decine di morti. Esprimo dolore e preoccupazione per quanto accaduto. Io, invito a pregare per i defunti, per i loro familiari, per tutti i detenuti di quel carcere e per quanti vi lavorano. Rinnovo l'appello perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane. Vi invito a pregare per questi detenuti morti e vivi e anche per tutti i detenuti del mondo perché i carceri siano per rinserire e non siano sopraffollate, siano posti di reinserimento. Preghiamo la Madonna, Madre dei detenuti. Ave o Maria, piena di grazie, Signore. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il suo, tu sei no Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e ora. Nostra morte. Amen.